Un accordo importante, viene rinnovato quello che è un accordo già esistente da qualche anno sull'intero territorio provinciale, un accordo che di anno in anno cerchiamo di renderlo più operativo, più calibrato su quelle che sono le esigenze del nostro territorio, ma soprattutto per quelle che sono le esigenze dei vari nuclei dell'Associazione Nazionale Alpini presenti sul territorio. Il progetto di quest'anno che vede l'importo complessivo invariato, ovvero 100.000 euro come l'anno scorso, ci sono due grosse novità. La prima è quella che il 25% di questi fondi, quindi 25.000 euro, verranno dati all'Associazione Nazionale Alpini in anticipo, questo per poter fronteggiare nel migliore dei modi e nel modo più snello e meno burocratico possibile quelle che sono le spese delle prime emergenze. E questa è una grossa novità. La seconda è un atto di importante responsabilità da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, ovvero quella di destinare una quota cospicua di questi fondi, di questi 100.000 euro, alla predisposizione di visite mediche per ogni singolo volontario che verrà impiegato. Quindi non più solo e esclusivamente l'assicurazione in grado di coprire i volontari sui rischi, ma proprio una visita medica che possa monitorarli nel tempo su quello che è anche il loro stato di salute. È per noi importante, per noi istituzioni, è importante avere a disposizione dei privati cittadini che gratuitamente si mettono a disposizione del territorio. È altresì però importante fare in modo che questi privati cittadini che con eccezionale generosità si mettono a disposizione di tutti quanti noi, siano in una condizione di salute migliori per poter operare innanzitutto in massima sicurezza per quanto li riguarda. È questo un momento assolutamente importante perché mette nelle condizioni i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini che sono preparati e pronti per intervenire di essere in sinergia con le amministrazioni locali, perché solamente così si riesce a lavorare insieme. Non è possibile pensare che i volontari vadano ad invadere il territorio, ma devono essere le necessità del territorio rappresentate dagli amministratori a livello locale e a livello provinciale che vanno ad impattare con la realtà del volontariato. Quindi è questo momento assolutamente importante per noi e che ci dà l'entusiasmo del proseguire in questo campo assolutamente impegnativo che è la protezione civile e che ha come obiettivo quello di proteggere la nostra gente e il territorio. Ecco, il contributo provinciale servirà anche a ulteriormente incrementare il patrimonio di mezzi a disposizione degli uomini della protezione civile e degli alpini. Certo, nel campo della protezione civile bisogna essere sempre professionali, perché specialmente nel caso delle emergenze viene richiesto un intervento di uomini, mezzi, materiali e procedure assolutamente affidabili e che coprano tutte le tematiche della protezione civile. Con questo aiuto importante dell'amministrazione provinciale, noi proseguiremo sul campo di potenziamento dei nostri mezzi e anche di copertura, in questo caso sanitaria, di tutti i volontari che andranno ad operare sul campo.